La regola dell'amico non sbaglia male Se sei amico di una donna non ci conviene Oh Cisco, faccio il disco, lo faccio! Che bello! Un musicarello! Torna a un genere famoso negli anni 60 Musica e cinema con gli 883 In prima visione assoluta, Jolly Blue Lunedì alle 20.45, Italia 1 Musica e cinema